La crisi economica ha colpito anche il lavoro nero. Secondo la CGA, i posti di lavoro irregolari persi tra il 2007 e il 2012 ammontano oltre 106.000 unità e l'esercito dei lavoratori nero sono scesi poco sotto i 3 milioni. È la CGA a rilevarlo, sottolineando che quasi la metà dei lavoratori irregolari opera nel mezzogiorno. La crisi, segnala il segretario Bortolussi, ha tagliato drasticamente la disponibilità di spesa delle famiglie italiane. Pertanto anche per le piccole manutenzioni, per i lavori di giardinaggio o per le riparazioni domestiche non si ricorre nemmeno all'abusivo. Questi piccoli lavori o non vengono più seguiti oppure si sbrigano in casa. In questi anni, infatti, continua Bortolussi, abbiamo assistito a un vero e proprio boom del cosiddetto fai-da-te casalingo, di persone che di fronte ad un guasto o una rottura si sono messi a fare l'idraulico, l'elettricista, il fabbro o il falegname.